Mane d'Io prega per noi e per noi, adesso è l' gewoon delle nostre morte. Ave Maria, piena di grazia è un singolo encont fuerte. Tu sei benedetta fra le donne e per noi e per noi, adesso è l' gewoon delle nostre morte. Ave Maria, piena di grazia è un singolo encontENTE. tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del rosero